Non li mettiamo noi! Oh, non mi dimenticare! Vieni con noi! Ma lo c'è? 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 Allora... Va cagare qui Allora... Ascolta! 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 Vieni qua! Stai qua! C'è la polizia! Vengo subito! All'istante! Allora! Non mi toccare! Non mi toccare! Allora! Devo chiamare! Allora! Io sono... Io? Io? Io sono calmissimo! Allora! Tu sei padrone di casa! Aspetta! Calma Giuseppe! Stai qua con noi! Parliamo! Aspetta! Aspetta che devo andare! Prendi l'avvocato che non sta alla strada! L'avvocato! 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 Non è venuto qua l'avvocato! Allora! Ascolta! No! Qua! Appoggia la bella bicicletta! Allora! Quaglie! Le quaglie fanno così! Regalo di addio eh! Allora! Regalo di addio eh! Allora! Una torcia! Una torcia! Una torcia! Una torcia! Mi dai quella torcia! Mi serve! Mi serve! Ma sei il semi impazzito! Ma cosa c'è? Aspetta! Aspetta! Dai! Oh! Come a te! Oh! Tu sei qua! Tu sei qua! Tu sei qua! Allora! La vuoi a casa? La vuoi a casa? Quanti? Vuoi stare con me? Vuoi stare con me? La vuoi? Mi fai dare quella torcia? Guarda che è di mio nipote! Oh! Guarda che! Dai! Guarda che è peggio! Non so che è peggio! Grazie! D'angelo! Grazie! Ma dopo vieni eh! Dove la vuoi? Dopo vieni te la do! Vieni te la do! Gratuita! Che hai fatto? C'è le fabre in casa? Eh? C'è le patere? No! Io la voglio! Posso tenere con te? Io te lo faccio! Vieni te lo faccio! Vieni te lo faccio! Lascialo andare! Giuseppe! 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 No! Non va! Non va! Se non è andato a far bastardo!